Dal 25 agosto al 3 settembre la 26esima edizione dell'ultima luna d'estate è una rassegna ormai più che tradizionale per il territorio lecchese e dell'Abrianza. Si animano giardini, parchi, cascine con spettacoli teatrali e si parte subito alla grande con un ospite d'eccezione. Con due ospiti d'eccezione perché se Gad Lerner è conosciuto al grande pubblico anche televisivo, Don Walter Magnoni è oltre che essere il nostro parroco qui di Acquate, è docente alla cattolica e soprattutto è un esperto di teatro. Sarà un dialogo molto bello tra due punti di vista diversi su un tema a cui teniamo molto che è quello appunto della diversità. E che sarà il filo conduttore poi di quest'anno. Sì sarà il tema come tutti gli anni abbiamo scelto un tema, infatti partiamo subito con uno spettacolo dedicato a un artista che era decisamente diverso cioè Antonio Ligabuo, uno spettacolo di Mario Perrotta che ha vinto un sacco di premi, un spettacolo bellissimo e poi dal Teatro dei Borgia, Corrado Delia, chiudendo con un altro nome che tutti quanti conoscono che è quello di Peppe Servillo con un testo di Maurizio De Giovanni. Spazio anche alle giovani compagnie perché torna anche la luna crescente. Sì è un bando di cui siamo molto orgogliosi dedicato alle compagnie e gli artisti Under 30, tre compagnie selezionate su diverse decine che ci hanno mandato il video, si cimenteranno presentando ognuno 20 minuti del proprio spettacolo, il pubblico alla fine voterà quello più gradito che sarà presente l'anno prossimo all'edizione successiva con lo spettacolo intero. L'ultima luna d'estate è un'iniziativa di Teatro Invito con il consorzio Briantio Villa Greppi, ma qual è il segreto del suo successo? Innanzitutto è l'alleanza tra pubblico e privato, il pubblico che si mobilita ogni anno in modo straordinario. Per scoprire tutti gli appuntamenti? Si va sul nostro sito teatroinvito.it, prenotate perché molti degli spettacoli sono necessariamente a numero chiuso, se malauguratamente dovesse piovere non preoccupatevi perché gli spettacoli si fanno lo stesso e sono tutti spettacoli che vale la pena vedere sia all'aperto sia al chiuso.